Musica Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie sul mio modpack personale, vale a dire BlazeCraft. Siamo all'episodio numero 2 e come è stato per l'ultimo video della serie di sopravvivenza, penso che l'abbiate visto già tutti, anche in questo caso ho registrato il gameplay non registrando la mia voce. Purtroppo io gestisco varie serie e nella serie multigiocatore registro l'audio separato dall'audio restante, quindi dall'audio di gioco e dalle voci degli altri giocatori. Quindi mi sono praticamente dimenticato di registrare la mia voce e quindi facciamo così, facciamo un breve sunto della puntata che avevo registrato, tanto vi assicuro che era uscita una merda totale e dopodiché partiamo con il live commentary. Allora, mentre passeranno vari spezzoni di gameplay sullo sfondo, vi dico in breve cos'è successo. Allora, prima di iniziare la puntata mi sono detto, ma sarebbe carino iniziare la puntata con gli strumenti almeno di pietra, almeno ci portiamo avanti e possiamo iniziare subito a fare le nostre cose. Non l'avessi mai pensato perché vado nella grotta di fianco alla casa del ninja, mi ritrovo un mutant skeleton che mi bisciotte, quindi muoio e perdo tutto. Torno lì un'altra volta, lo scheletro era ancora lì perché è un pezzo di merda, mi ribisciotta e muoio nuovamente. Torno una terza volta perché sono un crapone e non volevo arrendermi, in quel caso mi sciotta una volta sola, non muoio ma riesco a recuperare metà delle mie cose. Vado avanti per andare verso la foresta, arrivo un'ape gigante e mi sciotta, quindi muoio un'altra volta. Rinasco, mi risciotta l'ape e muoio un'altra volta. Sempre più afflitto perché tutti mi uccidono, vado nella foresta e decido quindi di chiudermi nella montagna. E non l'avessi mai fatto perché mi mancava tipo tutto, mi mancava il legno e mi mancava soprattutto il cibo. Per cui non appena mettevo la testa fuori per prendere del cibo o del legno, c'era sempre il mob di turno che mi sciottava. Oltre a mob a caso c'erano addirittura dei boss che erano spawnati in quella foresta, quindi capite quanto era estrema la situazione. E quindi niente, sono rimasto per un po' dentro la montagna, ho scavato, ho radunato qualche risorsa, tra cui ho trovato del rame con cui mi sono fatto un casco e il salt ore. Praticamente è un minerale della ore spawn che serve per allontanare le termiti. Quindi questo ci sarà molto utile se vorremmo in futuro salvare quel povero villaggio di giapponesi che è stato preda delle termiti che si sono mangiate tutto il legno purtroppo. Detto ciò non c'è molto altro da aggiungere perché il mio gameplay è andato avanti così, morivo, recuperavo le cose, rimorivo, rirecuperavo le cose. Ok ragazzi eccoci qui, adesso siamo ovviamente in commento live perché mi sono ricordato di accendere il microfono in questo caso. Eh bravo Eren, bravo Eren che ti sei ricordato. E ragazzi nel frattempo io su Facebook vi ho fatto un sondaggio, il sondaggio diceva c'era una proposta di mettere la Morph Mod nel Modpack perché la Morph Mod mi sarebbe molto utile per camuffarmi tra gli altri mob e diciamo la cosa mi permetterebbe di prendere meglio le risorse senza avere troppe rotture di coglioni. Allora il sondaggio ovviamente, ovviamente perché era abbastanza scontato perché a tutti piace la Morph Mod, Mod, non Mob, ha dato esito positivo per cui ho già messo la Mod e adesso voglio assolutamente uscire, e ho rotto il piccone ovviamente, uccidere qualche stupido mob, tipo l'uccello, così possiamo volare. Oppure queste... oddio che cazzo... che cazzo è? Aiuto! No me ne torno nel mio buco. Vaffanculo! Che cazzo era quella cosa? C'erano delle squid? Mi hanno accecato? Sì? Mi hanno dato cecità? C'erano delle squid? Che mi hanno dato cecità? Ma che cazzo ho appena visto ragazzi? Oltretutto è notte quindi... ah eccole qui. Sono spawnate in acqua queste fottutissime squid che mi accecano. Boh, eh... ok, ok, non so più cosa pensare di questa mod, è veramente nociva la salute. Allora, io direi di cercare di uccidere un uccellino. Cosa cazzo è quello? Ah, ok, un ragno, un ragno, uccidiamo il ragno. Mi trasformo nel ragno ragazzi. Eccomi qua, sono un fottuto ragnetto. Perfetto, adesso spero che non mi rompano più i coglioni, ma ho visto... Cosa cazzo è? Jumpy bug! Dio mio è inquietante! Ragazzi, vi rendete conto? Che schifo! No, io me ne vado. Si è mangiato lo zombie! Perché mi segui? Oddio! Mi segue, mi ha sgamato. Mi ha sgamato? No, era una cosa casuale, ragazzi. Quanto cazzo fa schifo quel coso? C'è un altro. Spit bug! Cosa? No! Mi ha preso! Una meteorite si è scantata! Aspettate, no! No, ragazzi, cosa sta succedendo? Aspettate un attimo! Allora, dove sono adesso? Dove sono adesso? Dove sono adesso? Ah, ok. È successo un casino. Allora, come cazzo si fa la minimap? Per piacere. Mamma mia, ragazzi. È successo un macello. Perché è anche caduta... No! Porca troia! Porca troia! Sto morendo soffocato. Allora, torniamo a Eren. Non riesco. Non riesco a tornare... Non riesco a tornare a Eren. Boh, non funziona, ragazzi. Non riesco a tornare a Eren. Perfetto. Ehm... E adesso? Che cazzo sta succedendo? Ehi? Non riesco neanche... A uscire? Ehm... Mi sa che... Il ragno è... Eh sì, è più largo di un blocco. Quindi non posso passare da qua. Porca di quella troia. Ehm... Sono tipo bloccato per sempre in un corpo di ragno. Perché... Vi assicuro che non va... Assolutamente... La morfe. Ehm... Ok, ragazzi. È successo qualcosa di incomprensibile. Perché? Penso che si sia schiattata una meteorite da qualche parte. Pesce? Boh, prendiamo il pesce. Poi... Io sono un ragno e non riesco più a ritrasformarmi. Perché lo so che... Si utilizza il tasto... La freccia in su per trasformarsi. Ma non funziona. Non funziona. Sono un ragno e non riesco a tornare umano. Cazzo. Ehm... Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. Oltretutto... C'era... C'è un enderman da qualche parte. Mi attacca pure l'enderman! Ma che... Cazzo! Cazzo! Ho detto che sarebbe diventato più facile con la morfe, ma... Stamin che è più facile. Allora... Devo... Un attimo uccidere un uccello assolutamente per... C'è pure il creeper! Il creeper! Mio dio! Ars magica così a caso. Cosa sta succedendo? Allora, allora. Con calma. Con calma. Mi serve un uccellino. Mi serve un uccellino. Aiutatemi a trovare un fottuto volatile. Dove sono finiti tutti? Era pieno di... Uccelli qui una volta. Mio dio! Non ce ne sono più. Eccolo! 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 Scendi! No, dai! Due di vita! È solo due di vita! Un colpo e sei mio! Porca Eva! Non ho neanche le spade! Eh... Vabbè! Tieni il piccone! Non lo so! Devo assolutamente colpire un uccello! Eccolo! Fa niente se è rosa! Fa niente se è rosa! Ti prego! Vieni qui! Ah! Non ce la farò mai! Dove è andato? Dai! Vieni qua! Ti prego! Ti prego! Vieni! È pieno qua sotto! Bastardi! Si nascondono da me! Mamma mia! Adesso... Vi prendo tantissimo! Vi prendo tantissimo! Fra l'altro mi sa che scappano da me! È possibile? Dai! Non riesco assolutamente mai! Ci sono le rane che mi inseguono! Le ho viste! Qua c'è una cosa stranissima! Non lo so! Prendiamo cose a caso! Eccoli! Eccoli! Fa niente se mi segue la rana! Fa niente! Ho altre priorità! Ma io mi attacco alla parete! Tanto sono un ragno! Tiè! Non mi fai niente! Tiè! Strunz! Eccolo! 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 Sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Via! Vola via! Vola via! Per carità! Allora ragazzi! Un attimo di respiro! Cerchiamo di capire cosa minca è successo! Perché? Abbiamo letto che è caduta una meteorite! Ok! Dove è caduta questa fottuta meteorite? Io non vedo nessuna meteorite nella zona! Andiamo qua sopra! Ci sono cose inquietanti qua! È meglio andarsene! Probabilmente è caduta nei dintorni! E semplicemente mi ha avvisato della cosa! Perché io non la vedo qui! Bisognerà capire dove è caduta! Sarà caduta sui giapponesi poverini! Ormai vengono trucidati da tutti! Non lo so! Non lo so! Non c'è anche un giant zombie lì! Vabbè! Ragazzi! Io ho questa difficoltà che non riesco più a ritornare umano! Probabilmente c'è qualche conflitto con i tasti! Comunque sia! Adesso io in questo modo posso ritornare nel mio buco di base! Che dovrebbe essere qua! Esatto! E mi ci chiudo dentro! Tanto adesso posso passarci tranquillamente! C'era un enderman che mi voleva morto tantissimo ma fa niente! Posso entrare tranquillamente qui perché sono alto solamente un blocco e largo un blocco! Quindi andatevene a fare in queue! Allora mi rimetto il casco! Che cos'è sta cosa? Water dragon charge! Tipo una carica di fuoco però del drago! Interessante! Abbiamo raccolto anche una frog leg! 8 pesci! Io direi di metterli subito a cuocere! Quindi li mettiamo qua! Un seme che non fa mai male diciamo! Quindi ci può stare! E anzi magari lo piantiamo anche subito il seme! Almeno poi avremo qualcosa da mangiare! Perché non è che può durarmi per sempre il pesce! E niente ragazzi! Qua si è anche sputtanata la minimap! Io non riesco più a tornare umano perché probabilmente c'è qualche conflitto con altre mod per quanto riguarda i tasti Per cui dovrò risettare i controlli Ma per adesso ce l'abbiamo fatta! Abbiamo ucciso un ragno e un uccellino Quindi possiamo stare un attimo più tranquilli E quindi in questo modo penso che potrò raccogliere meglio le mie risorse E iniziare questa avventura nel migliore dei modi Perché per adesso non riesco a considerarla veramente iniziata Visto che sono ancora rinchiuse in un cazzo di buco Ho piantato un unico seme E sono qui che faccio la fame insomma Sono messo di merda Quindi ragazzi per questa puntata direi che tutto Lo so che non è stata una grande puntata Per cui non uccidetemi se la chiudo qui Ma ho bisogno di diciamo scariirmi le idee Vedere come si fa a ritornare umano O risettare un attimo i controlli Comunque sia se vi è piaciuta la puntata lasciatemi un bel like Commentate e condividete più che potete Io spero di tornare umano per la prossima puntata Nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima Speriamo che non mi uccidano altre 3000 volte Perché ne ho già pieni i maroni Un saluto da ErenBlaze Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!